Questa è una nazione incredibile, tutto, i media, i media vengono usati come ologramma di se stessi, viene usato il giornale per rendere vero un ologramma di chi ci scrive, le televisioni, i mezzi di informazione che hanno rovinato e continuano a rovinare questo paese, tutto un ologramma, le banche, i creditori, guardate gli hedge fund, i derivati, tutto un ologramma, ci rendiamo conto che l'ologramma è la nostra vita, ci stiamo dentro e non lo riconosciamo.